Giusto una cosa volante, buonasera a tutti, popolo di Ortona, ciao, tu che ciclacsoni, siamo questa serata in un po' acustico, clandestino, clandestino fino a un certo punto, avremo i monotono, da Tessa, Daniele, chitarra e Nicola Percussioni, e ci sarò io, Gianluca Torelli, adesso ne ero un po' di cavolate per voi, iniziamo con i monotono. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti